Sono Alessandra Spada e gestisco in Castros questa nuova attività di self storage, cioè di affitto box temporanei, per cui ho deciso di farla conoscere alla città di Pesaro e dintorni tramite Rossini TV. Ho avuto questa opportunità tramite un'amica e devo dire che i riscontri sono stati molto positivi, di fatti abbiamo avuto parecchie richieste anche tramite le mail dove le persone scrivono grazie al nostro sito che è stato appunto sicuramente visitato, per cui come metodo di informazione generale la consiglio vivamente. Con lo staff mi sono trovata molto bene oltretutto perché mi hanno messo a mio agio, io non ho nessuna esperienza televisiva, per cui mi sono sentita insomma tranquilla senza nessun problema, come se avessi già fatto altre volte queste riprese, questi video, questi tipi di pubblicità insomma. In Castros la soluzione ai tuoi problemi di spazio.